Un cordiale saluto amici di WeSport, bentrovati al campo sportivo Campi Verdi di Asci Castello e l'esordio assoluto nel calcio femminile per il Camaro. La grande novità della stagione nero-verde, la formazione di mister Tiziana in poco va in scena nell'andata del primo turno di Coppa Italia. Affrontando il Sampio decimo, vediamo la rosa a disposizione del Camaro, Merlino, Famà, Marchetta, De Gaetano, Angela Furnari, Gatto, Miano, Sottile, Cristiano, Larocca, Fragomeni, tutto pronto. Per il fin del primo tempo, maglia nero-verde per il Camaro risponde invece il Total Blue a inserti verdi il Sampio decimo. Partono meglio le padrone di casa Totaro, la respinta però di Merlino che salva il Camaro che si proietta in avanti poco dopo. De Gaetano sterza sul destro, la respinta del portiere, Gatto sottoporta, non riesce a trovare il bersaglio grosso, arriva il vantaggio poco dopo da Gatto per De Gaetano. Miano ancora dentro ed è il capitano Gatto a sbloccare il risultato ad Asci Castello, il primo gol storico di una compagine femminile per il Camaro. Prende il campo, la formazione nero-verde che al quinto può riprovarci lo scambio tra Miano e Gatto dentro il pallone per De Gaetano. 0-2 in 60 secondi, ha trafitto due volte il portiere, la formazione di Niziana in poco. Dall'altra parte però occhio a Marzagalli che impegna il portiere Merlino, arriva però il tris del Camaro. Tiro respinto di Furnari, De Gaetano sottoporta, fa 3-0. Non si perde d'animo il Sampio che si presenta in avanti con Marzagalli, pallone respinto, c'è Russo sottoporta che fa 1-3. Provano i padroni di casa a riaprire il match quando Miano ha una doppia occasione, brava Bonfante. In un primo tentativo poi sul fondo la sfera, Marzagalli impegna ancora Merlino che risponde presente. Poi dalla destra il cross di Miano, ci prova De Gaetano. Pallone di poco alto sopra la traversa, terminerà di lì a poco il primo tempo. Fin qui tutto bene per il Camaro ad Asci Castello. Vince per 3-1 la formazione di Diziana in poco, ma è tutto pronto per la seconda parte di gara. Subito il Camaro con Miano che riconquista il pallone. Si lancia verso la porta la deviazione di Bonfante che evita il poker nero-verde. Ancora Miano apre sulla destra il pallone di De Gaetano. Fa ma a colpo sicuro non riesce a calare il poker. Marzagalli attenzione alla deviazione sfortunata di Miano. E l'autogol il 2-3 nel giro di 60 secondi. Il Sampio trova anche il gol del pareggio, destro Beffardo da parte di Todaro. E 3-3 adesso ai campi verdi di Asci Castello. Il Camaro però non si perde da animazione di sfondamento di fama per De Gaetano. È scatenata De Gaetano che trova la tripletta personale all'esordio. Il gol delle 4-3 che vuol dire nuovo vantaggio Camaro. Momento propizio per gli ospiti che poco dopo cercano con Cristiano il quinto gol. Assist per Gatto piega le mani del portiere doppietta. Per il capitano è il numero 10 del Camaro. Gol del 5-3 da rimessa laterale. Continua il Camaro a spingere. Sfiora il gol. Gatto sfiora anch'essa la tripletta. Soltanto palo. Poi Marchetta lotta alla disperata sul pallone. Lo riconquista e trova il proprio primo gol della stagione. 6-3 del Camaro che prende le distanze dal Sampio. Arriverà anche la settima rete. Da fama a destra. Per Miano il diagonale sbatte sul palo e poi tocca a Bonfante. Autogol che vale il più 4 tra le due formazioni nel finale di partita. Attacca però il Sampio con la numero 11. Marzagalli sicuramente la migliore delle padrone di casa. Il gol che vale il 4-7. Di lì a poco il triplice fischio ai campi verdi. Di Aci Castello vince il Camaro nell'andata del primo turno di Coppa Italia. Di calcio a 5 femminile. Lo fa per 7-4 contro il Sampio. Amici di Wii Sport un cordiale saluto e alla prossima.